adesso proverò una cosa nuova ho paura tanto la kirov no no non ho metto mosso la ossa la ossa la portaere userai una portaere che non la soluzione minimamente ma bene bene quindi quindi andremo a morire male andremo questo lex esplora ok quindi speriamo come sembrano le porterie non lo so se si carica la mappa magari ok fammi vedere come sei messa dove sei allora mi sta caricando l'estetica della nave non c'era niente so tu sei là in fondo sono sputato almeno dal mio punto di vista ok madonna sei alle prime armi proprio ma vedi bravo con la con la portaerea in teoria tecnicamente così ma vuoi andare sempre che non usi una portaerea da un pezzo sei allora buona fortuna già mi mandi i bombardieri addosso complimenti dai almeno spero che ti danno un supporto tu metti di più lontano possibile metti se fossi in te mi metterei in g1 non so perché o in g1 o in no neanche in 10 j eh la sto andando 10 j ti danno qualcosa? credo che hai spattato qualcosa eh ho notato oh tutti la sono uno due tre quattro cinque sei ho tutto la stanno mamma mia se dico che non vedo non vedo un geyser ci credete? ok non vedo un geyser mazzo l'ho buttato in fiamme buono avvistata corazzata nemica chi è andata addosso chi è andata addosso chi è andata addosso e ovviamente chi è andata addosso so io sto capendo come si usa la porta aerea ottimo buona scoprire che uno dei nostri porta aeree non sa come si usa una porta aerea certo incrociatore nemico sta colando a picco allarme incendio problema risolto signore ok ok datemi un supporto perchè sono in estrema difficoltà ok una l'ho colpita bella sei tu? si ma non l'ho distrutta però va benissimo lo stesso cavolo Madonna che casino No Ho distrutto da qualche cosa Non ho capito Dai ho fatto qualcosa Dai ho fatto un po' di danni Sono contento Ho fatto danni Ho messo a fuoco un sacco di gente Da tutto a posto Perché quella nave da guerra è andata al suicidio? Tan ta ta Tan ta ta Però non ti dico neanche quello che sto vedendo Sto vedendo È una cosa bruttissima Ti mando lo screenshot No dopo ti mando la foto è allucinato non ti dico quello che sto vedendo te a che punto stai? lo dovresti vedere con i tuoi aerei che hai appena spedito no, ho mancato non hai lanciasi lui ho bombardito in piccia ok perfetto siamo alla pari no, siamo un po' in vantaggio ora ho lanciato i lanciasi lui eh, dovevi farlo prima perché erano tutti concentrati sulla nave da guerra che ha tentato il suicido praticamente pazzo, è una nave tedesca la Kaiser è pazza sta Kaiser è andata a suicidio proprio cioè, solitamente quelli che vanno a suicidio sono quelli che fanno all'Akbar ho trovato il bersaglio questa cosa la centro bene la spondo eccoli qua no, ho mancato ho mancato si lo sto guardando e posso dire addio alla nave da guerra qui che sta combattendo la Texas livello 5 hai colpito l'isolotto ah purtroppo è una questione di anticipare non è facile anticipare c'è sta ciao chissà se la colpisci per il momento siamo si ho colpito la porta via di loro si si ma che bella squadriglia che è arrivata dai un supporto per favore a quella nave da guerra in fondo che vedo che è in difficoltà in maniera abissale ora ci provo ma ci provo la base è andata in quella non quella davanti a tutto dai prenderla da dietro la tua estipiglia tranquilla medaglia è la contraverso ma non aveva guerra non dovrebbe che tutto sta portata pure ce li ha no ho presa si bello ah era la kaiser di prie che dà suicidio prima che mostrano difficoltà siete praticamente pareggio guarda cosa non poco poco più in vantaggi eh per la porta aeree dici no direi anche per la questione delle navi che hanno più resiste ehm hanno meno danno abbiamo perso la nave della guerra cazzo si si è quella lì vicino al dove c'era la porta aeree bro ah cioè è ancora viva ma non reggerà per molto eh infatti eh infatti infatti io quella stato più avanti che c'era la porta aeree avversario peccato intanto sorseggio ahia intanto vedo i tuoi bei veicoletti ahia ho visto uno andare in picchiate l'ho mancata mannaggia ah no l'ho presa dalla corazza ok ma sono rimasto solo io sono rimasto no c'è la tonale da guerra guarda questa vince il problema che non avrà difficoltà con la tonale da guerra è una una lighieri dagli un bel supporto dici che quello ce la fa contro quella là? quell'altra si ha più vita ma so per questo io che ha più vita però dopo non reggerà un altro combattimento corpo a corpo soprattutto con l'altra nave quindi prima quindi dagli su vai ad attaccare l'altra nave direttamente non pensare a questa qui perché quella la sta sconfiggendo a punto l'ho detto ok cosa hai mandato scusa e ha i lanciamissi eh ma secondo me devi passare sui coli eh bombardieri mannaggia loro sta nell'A3 la vedo l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho passou off a l'ho induzire l'ho detto 얼os scripture Ah, ho mancato nettamente Dove l'hai mancato? Nettamente Aia Guarda, è il bel torretto quello lì, eh, porca miseria No, troppo avanti L'altra nave da guerra invece che posto, come è messa? La rischia Come sta messa la nostra nave da guerra? Molto male Quindi affonda? Probabilmente sì Vabbè, gente che mi manda messaggi Siamo in una situazione critica Secondo me la portaria non la devi più fare Vabbè, la prima volta pure che la usavo, quindi... Vabbè, dopo tanto tempo Ma qualche colpo lo dà? Ah, no, di supporto sì Però secondo me... Una volta tu che cosa facevi? Ah, sì, andavi... Madonna, la sprona, la spona Ok, l'abbiamo persa No È andata a suicidio Sì? Sì, si è suicidata perché così la colpiva sul fianco L'ha danneggiata, esplosione totale Sono zombati tutte e due? Sì Oddio Sono io quindi il... Sì Bro, guarda, devi andare in A3, A4 Bro, devi andare là Non devi mandare Ma andagli là direttamente Non ci pensa due volte Mamma mia E ha fatto bene Perché giustamente tu da solo con quelle due non ce la facevi Quindi ha detto vada a suicida a sto punto In tutta velocità Perché l'ho visto in B, bro? Ho visto degli aerei in B No, ma io non posso fare niente con la NAP B B, bro L'ho vista, l'ho vista T'ho detto Vabbè, che vado da Qua è proprio un gioco da... Eh, però è molto danneggiata rispetto a te Eh Perché quella là... Eh, quella è... Ma quant'è di lungo, quindi Eh Buono, mi ha testo, mi hanno distrutto Eh, qua è molto tosto la cosa Qua è stato un combattimento lungo Che bello che vedo gli aerei come li mandi Non ne puoi mandare più di uno? No Wow, madonna, è vero Se lo sbaglio da livello 6 puoi mandarne tre Lo sbaglio No No, dico da livello 2 No, su Stil Ocean potevo mandare più di una squadriglia Eh, però... Eh, sì, è vero Ecco perché mi ricordavo Questo lo devi prendere di fianco Ma quello sta scappando come stai facendo tu Quindi dalla B sta... Dalla B2 sta... A B4, 3 Quindi lo devo prendere da dietro Se tutto va bene Se fossi intendere in J 10 Voglio andare a prendere il punto loro Perché stanno facendo punti Così se ce lo tolgo Ho capito Oh, l'avevo azzeccato che era Ah, è da posto di B è rimastinato Ma sai come devi lanciare quelli da Siluri, secondo me Vediamo se riesci a farci No, bro Niente, ti servono i Siluri, bro Così le pigli da lontano Ti sapevo essere Già gli tolto appunto il K che loro stanno facendo Già è buono perché dopo mi sposto in B In mezzo agli isolotti in B Eh, sì Ho capito No, ma te come sono passati quelli Eh, devi lanciare gli Siluri perché se lo becchi frontalmente è fottuta, capito? Perché dovrà virare per forza Quello sto usando infatti Siluri Eh, no, perché prima l'hai usato quell'altro Ma quell'altro non serve Gli ha tolto il K Quasi non fanno più punti Sì, è vero, comunque Fatto benissimo No, ho sbagliato Ho sbagliato a premere tasto No, non dimmi che hanno lanciato Che è successo? Eh, mi dobbiamo fare i comandi No, ho sbagliato a premere tasto Invece di premere 1 ho premuto F Che vuol dire? Ritirata Eh No, dai Che cazzimmo Che non sono ancora abituato ai tasti della portiere Vabbè, dai Vedi, però stiamo recuperando almeno i punti, eh Sì, sì, sì Concordo Sta pure per scadere il tempo, eh Perché c'è un termine da scadere Vinceresti tu perché hai più vita di quest'altro No, però punti stanno in vantaggio Vantaggio loro Non c'è bene Ci provo Mancato Niente Peccato No, di punti c'è da te No, abbiamo, siamo noi Ora siamo in vantaggio Perché gli ho tolto il capo Abbiamo vinto noi, eh Lascia stare Vado andando avanti Che è meglio E perché sono due punti a testa Capite? Sendo che tu hai preso il rosso Adesso sto andando a prendere pure B Quindi sono sperato forte a battere Abbiamo vinto Eh sì, c'era la scadenza di tempo Però sta via 14 secondi Vabbè però guarda che ho fatto un sacco di danni Per la prima volta che uso la porta E Non sono abituati a buoni comandi Ah, questo sì Questo sì